Che senso? Amministrata bene? Ma questo lo dovete chiedere ai milanesi, ne? Siamo qua per altro, insomma. Senta, ci sono state molte polemiche ieri per le vacanze di Virginia Raggi. Anni fa ci furono molte polemiche. No, ma francamente scusate, però un livello un po' più alto, vi prego. No, andiamo invece dell'Alfa di Arese. Esatto, ora c'è la conferenza stampa. Scusate.